Il popolo della Magliana di unirsi a questo corteo, perché gli italiani sono stati di dubbire quello che sta succedendo in Italia. A noi per merci, la merci ce l'ha chiedata, ma il popolo di lema ce l'ha data. Il presidente, il potere, lo stato, il comune, le governative mangiatozzi hanno rotto i questioni. Grazie a tutti. Forza! Nuova! Orgoglio nazionale!